abbiamo due fratelli, uno d'Italia e uno d'Italia, uno d'Italia. Oggi abbiamo due fratelli, uno d'Italia e uno d'Italia. Oggi parliamo del miracolo santificio del Corano. In italiano, in italiano, io credo che non c'è nessuno di Gesù sia l'Italia. In italiano, io credo che Muhammad è l'envoye di Gesù. In italiano? Attesto che non c'è divinità all'infuori di Allah e attesto che Muhammad è il suo messaggero. Il nostro fratello dell'Italia parla del miracolo santificio. Inshallah. Miracoli scientifici del Corano. Islam is the truth and Islam is the best religion. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 www.mesmerism.info